Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com ProAction, integratori per lo sport. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con Scratch. Sempre tante corse da vedere, tante cose interessanti, ma soprattutto questa sera abbiamo due ospiti interessanti con noi. Ci sono Simone Fraccaro, GSG, ex corridore. Grazie di essere arrivato con noi a farci compagnia per questa puntata. E Mario Beccia, un altro grandissimo, non per altezza, ci abbiamo sempre sorriso su questo. Mario Beccia, un altro importante corridore che ha segnato la storia del ciclismo negli anni 80. Allora, partiamo subito con una domanda bruciapelo. Avete visto l'arrivo del Giro delle Fiandre domenica? Gli ultimi 70 chilometri. Insomma, la passione, quindi ci guida a stare sul divano adesso per vedere quello che è una splendida corsa. A me è piaciuta. E l'arrivo come ti è sembrato? L'arrivo... Su chi scommettevi? L'arrivo mi è sembrata quasi una Ligi Baston Ligi, se ricordi bene. Sì. Però lì è finita bene per noi, diciamo, gli italiani che abbiamo vinto con Moreno, no? Beh, insomma, ne ha vinte quattro. E quindi è andata bene. Lì invece ha sbagliato un po', Pogaccia, perché per conto mio ha sbagliato lui. Ha aspettato troppo, doveva dargli qualche cambio, per cui un'ultima nel finale, perché secondo posto l'aveva sicuro in tasca. Chiaro che l'altro era velocista e quindi... Tu, da ex corridore, avresti pensato che li avrebbero ripresi, il gruppetto dietro? Beh, ma si sono fermati. Guardando bene si sono fermati. Ecco, non ti sembrava di vedere un po' Bianchetto e Beghetto in pista? Si picchia. A questo non ci ho pensato. Non sono proprio di quell'età lì. Il ciclismo a quel tempo lì non lo vivevo proprio in questa maniera. Invece, Simone, tu sei stato anche campione italiano nelle categorie giovanili in pista, se non sbaglio. Professionisti. Ah, professionisti, ecco. Forse me ero sbagliata, non ero... Come ti è sembrato quell'arrivo? Da pistar o da ciclocrossisti? Con un arrivo esplosivo, una partenza esplosiva di Van der Poel? Con una gara così lunga, in finale, qualcuno arriva più carico, qualcuno più scarico, perciò la volata non è più veritiera, proprio quella dello sprinter. Si sapeva benissimo che Van der Poel le volate le sa fare. Pogacar l'ha fatta da principiante. Diciamo, ha sbagliato completamente lui. Uno che ha vinto un tour la fa da principiante? Insomma, ci fa pensare questo. Sì, è un grande, è una gran gamba, ha fatto una selezione al momento giusto, era l'uomo che meritava la vittoria per quello che ha dato durante la corsa, però nella volata è stato un esordiente. Non ci si può fare incalzare così da quelli dietro e farsi chiudere poi nel sorpasso dei due e rimanere là a gambe ferme, perché lui era a gambe ferme, non poteva uscire. Ma l'esperienza anche nel ciclocross può averlo aiutato? Van der Poel, sicuramente sì, ma lui è uno di classe, è uno che non fa certi errori. Ho visto, secondo me, il Pogacar, è uno che non conosce ne ancora bene se stesso, perché è partito con la volata ed è stato lentissimo. uno che ha una volata lenta così, deve partire per primo lui, lungo, e tirare il collo agli altri. Ma è stato stretto, secondo te? Sì, in quel momento lì che era proprio ripartito, si è visto che è rimasto chiuso. Quando stava cercando di recuperare, sembrava che recuperasse, gli altri due che avevano già la velocità inserita, perché il primo ragionamento per poter vincere devi prendere quelli davanti, quindi devi andare più forte, e quindi erano già più lanciati. quando l'hanno appaiato, o appena appena passato, hanno stretto fra loro, lui si è trovato lì in mezzo, credendo ancora di poter seguire la scia dell'altro, e invece si è trovato chiuso. 200, quasi 300 chilometri. Chi di voi due ha fatto il Giro delle Fiandre? Quante volte? Penso tutti e due. Sì, ma io in ultima proprio, forse se lo conoscevo un po' prima, a parte che uno scalatore su quelle corse lì... Beh, il cuore molto però, insomma, fa la differenza. Insomma, avrebbe fatto piacere andarci, proprio adesso sapendo quello che è l'importanza di tutto quanto. Però, ripeto, anche, i nostri tempi erano diversi perché i contratti venivano fatti in Italia, erano sponsor italiani, interessava la corsa italiana, che era la promozione. In Italia, forse c'erano delle sensibilità diverse. E queste cose qui. Certo che quando ci sono stato e ho capito un po' come correvano, la Liegi e anche la Freccia, insomma, che erano quelle forse più adatte, non ho sfigurato. Ecco, una volta ho fatto quinto sulle Liegi, una volta sono arrivato lì a vincere la Freccia e poi un'altra volta sono arrivato quarto, quindi non ero proprio solo scalatore, ecco. Eh beh, hai fatto anche terzo a una Milano-Sanremo, ricordiamo dietro chi? Dietro Sean Kelly e Greg Lemon, insomma, per uno scalatore. Corridori solo di quel tipo di corse lì, proprio. Ecco, tu invece i tuoi ricordi del Giro delle Fiamme? Beh, io l'ho fatto varie volte ma non mi ricordo quante volte. Nel 75 ero alla Bianchi con Gimondi, l'abbiamo fatta, però è stata una cosa un po' anomala per me, che ero un principiante, mi sono trovato al mattino quando mi sono alzato per partire, per andare alla corsa, stava nevicando e c'erano 20 centimetri di neve per terra, ero convinto che non si partiva, invece allora... E i feceli non hanno problemi, partono. Per partire è stata una... Mi avevano già spiegato bene come dovevo correre, dove dovevo stare e cercavo sempre di tenere le posizioni, dove era il Merckx, dove era il Gimondi, stare sempre lì. Abbiamo detto dei nomi scarsi proprio, eh. Riuscivo a stare bene su quelle posizioni, ma un freddo incredibile. A un certo punto siamo entrati in un paese, mi ricordo bene, a Eclo, e c'era Pavè, tutto ghiacciato. E ho visto il gruppo completamente insieme, tutti andare giù per terra. Ne sono usciti praticamente vivi, il Merckx, tre o quattro di quelli forti. Quelli che resistevano al freddo e a quelle temperature. Io ero con Gimondi, ho aspettato che... 40 anni fa era molto più freddo rispetto allo... Beh, era una cosa incredibile. Io aspettavo che si alciasse il Gimondi, purtroppo aveva preso una botta in testa e ha detto io non continuo più e lì è finita. Poi l'ho fatta un anno ancora con Francesco Moser, che abbiamo combattuto fino quasi alla fine, ma negli ultimi due o tre strapi ce n'erano molto meno di adesso, perché adesso fanno 18 muri. L'hanno cambiata molto. Allora era diversa, c'erano meno muri e disposti in maniera diversa si faceva in finale il Granmont, che era quello più decisivo. Prima del Granmont è successa una caduta, qualcosa, siamo rimasti fuori e siamo arrivati con il gruppettino dei defunti. Dei defunti. Invece Mario Beccio, tu hai parlato di grande festa di popolo. Effettivamente c'erano quasi due milioni di persone lungo le strade. Manuele Boaro, che ho intervistato nei giorni scorsi, che è stato autore di una lunghissima fuga, 220 chilometri, anzi è stato il primo che ha fatto partire la fuga e il primo a prendere il cuore, ma poi ovviamente sono stati ripresi. Mi ha raccontato di non aver mai visto così tanta gente in tanti anni da professionista in giro per il mondo. Cioè, una grande festa di popolo. Però vi stupirò con questa classifica, per cui secondo una ricerca, e qui voglio il vostro giudizio, il ciclismo è fuori dalla top ten mondiale degli sport. Nei primi dieci sport al mondo, il ciclismo non c'è. Ci sono al primo posto ovviamente il calcio, il cricket, il basket, l'hockey prato, il tennis, la pallavolo, il ping pong, il baseball, il football americano e il rugby. Ovviamente questa classifica è stata stilata e calcolata, incrociando i dati dell'audience, le interazioni sui social, la redditività degli sponsor e il numero di praticanti e la rilevanza sui media. Vi stupisce questa classifica? Sicuramente. Pensavate? Perché avendo Tour de France tra i più grandi eventi... Non avrei mai creduto fossimo così indietro. Sicuramente, no. Perché? Io credo sia errata, perché di ciclismo ne vedo tantissimo. Vedo il seguito che c'è nel ciclismo, vediamo anche questa corsa qua in Belgio. Al Tour non sanno come tenere le persone perché ce n'è... Io il Tour l'ho anche fatto e mi ricordo che da sempre di gente ce n'è sulla strada. Forse c'è qualcosa da rivedere nella struttura ciclismo? Secondo me... danno forse... anche i media non danno gli spazi sufficienti per uno sport del genere. Secondo me il ciclismo non è in quella posizione. Ma a livello... Tu sponsorizzi, ovviamente, sei un produttore di abbigliamento del ciclismo quindi sponsorizzi anche squadre. C'è effettivamente un riscontro, un rientro in termini di immagine o è faticoso ottenerlo? Allora, le cifre che girano sulle squadre più importanti, i Pro Tour, sono abbastanza importanti e a volte bisogna rinunciare perché sono molto alte. Io ascolto quello che dice ad esempio un grosso sponsor che è Segafredo e dice che come il ciclismo non ha trovato nessuno sport che dà uno spazio pubblicitario così ampio. Se lo dice lui che ha tutti i dati per controllare queste cose io credo che non si sbaglia di tanto. Bisogna capire sempre questi sondaggi come sono stati fatti e se sono realistici. Ecco. Vario, appunto, anche tu, insomma. Al secondo posto c'è il cricket però teniamo presente che è praticato in India e lì ci sono milioni e milioni di persone. Dal mio punto di vista è che forse quando l'abbiamo praticato noi che sicuramente c'era Era un ciclismo europeo. Sì, che portava tanto avanti lo sport. Era un ciclismo che potevi farlo per strada e quindi tutti cercavano di andarci perché non c'era quel traffico che c'è adesso. Beh, ricordiamo che negli anni 40, anni 50 il ciclismo era sopra al calcio era il primo sport appunto per questo. Adesso tutti come genitori siamo diventati molto apprensivi con i figli saperli che devono fare dello sport che va sulla strada siamo un po' tutti con le pinze alte diciamolo così preferiremmo tutti quanti che vadano in uno stadio perché lì ci sono lì oppure in una palestra circuiti chiusi quando riusciamo a farli perché non tutti i comuni hanno l'ottica di vedere per questi ragazzi che hanno queste passioni di fare questi circuiti come succede qui da noi anche da noi gli abbiamo fatti parecchi circuiti di questo tipo ma generalmente si approfitta delle zone industriali che alla sera sono vuote e allora si portano questi ragazzini su queste strade però dovremmo anche noi darci da fare per dare qualcosa di più al nostro ciclino e proprio su questa linea passiamo ovviamente alla linea alla regia parlando invece di mountain bike che si fa all'interno dei boschi delle campagne e di altre situazioni protette e quindi via con gli internazionali d'Italia Sirius da Nalles mountain bike e quindi Grazie per la visione Gara Junior, uomini ricco di prima mattina, temperatura piuttosto frizzante ma anche un pochino di sole, il terreno molto scivoloso per la tanta pioggia caduta nella giornata di ieri, Nalles di solito sempre piuttosto secco e polveroso, quest'anno condizioni differenti. Eh sì, anche se come vediamo da queste immagini ha piovuto ieri durante le prove però oggi i ragazzi almeno sono riusciti a partire con l'asciutto. Testa che ciondola da parte di Marco Betteo ci si aspettava una super prestazione da parte delle Piemontese e invece è incappato nella prima giornata della stagione, dell'annata e sugli scudi è salito, guarda un po', un altro francese. Paul Magnier dopo le grandi prestazioni negli anni passati di Adrien Boachy che poi ha vinto il titolo mondiale Juniors, un altro francese, fa capolino e lo farà dominatore qui a Nalles. Eh sì, d'altronde la Francia insieme alla Svizzera sono le due nazioni di guida, di riferimento del tutto il movimento mondiale della mountain bike e è ovvio che poi i giovani piano piano salgono e questo si vede in una prima Junior Series qua in Italia. L'Italia che si è difesa alla grande con Eliane Paccagnella, primo anno da Juniors, beh l'alto attesino ha delle doti. Eh sì, e poi l'alto attesino qua gioca in casa, sicuramente ha preparato questa gara nella maniera perfetta e l'ha dimostrato anche con le doti di guida. Ecco l'arrivo delle francese di Paul Magnier, ha detto oggi avevo davvero una super gamba, questa è la gioia del tedesco Lars Greter, chiuderà il secondo posto. E poi l'arrivo delle biker di casa Eliane Paccagnella. Eh sì, qua Eliane ha fatto veramente una gara in recupero confermando un'ottima posizione e un'ottima situazione di forma. Focus su Giada Specia, leader degli internazionali d'Italia Series, inizia ad avere un po' di pressione la Veneta ma la retta alla grande. Queste immagini intanto vanno a cercare Mona Mitter-Wallner, la grande favorita di oggi. E qui proprio vediamo la Mitter-Wallner che è un talento puro dell'Austria. L'anno scorso ha vinto tutte le prove di Coppa del Mondo nella categoria Under 23, confermandosi anche campionessa del mondo Marathon all'Isola d'Elba e l'atleta da battere quest'oggi. Focus che va adesso a cercare Eva Lechner, lei qui a Nals ha vinto quattro volte. Oggi è davvero complesso per lei, arriva dal cross e poi non è più giovane, dunque è difficile per lei trovare la condizione, passare da una disciplina all'altra. Ma ci prova grande grinta da parte della Bolzanina che abita proprio ad un niente da Nals, potrebbe venire addirittura in bicicletta facendo riscaldamento e gareggiare su un tracciato che conosce molto bene. Prime fasi Enrico, ovviamente come sempre qui si va un pochino dopo il lancio a trovare la posizione e quindi si va un po' di conserva. E qui vediamo le atlete in questo tratto molto impegnativo, terreno pesante quest'oggi perché ha piovuto molto ieri e poi nell'ultima parte per poi affrontare questa discesa molto tecnica, molto scorrevole però con moltissime insidie. Lechner è davanti, Enrico però è un fuoco di paglia, Mitter, Valner è lì, Guascona cerca di studiare un po' la situazione, ci sono tanti giri, c'è tanta fatica da fare su un tracciato molto fisico e molto esigente. Dunque va anche bene che all'inizio gara davanti ci sia qualcun altro, vedete un po' l'accortezza e qui siamo al passaggio del primo giro. La grinta di Eva Lechner e la grinta e la determinazione anche di Giada Specia, Mitter, Valner è lì, prende la prima borraccia e poi se ne va. Se ne va, se ne va la Mona Mitter, Valner ha iniziato a fare un forcing, prima ha recuperato le atlete davanti, poi ha fatto vedere tutta la sua classe e qua la vediamo che anche tecnicamente qui nella tonnara la affronta senza problemi, con gran sicurezza, una pulizia veramente incredibile. Con una Giada Specia, anche lei piano piano su alti livelli e ricordiamo che appunto è la leader del circuito. Specia è in seconda posizione, ragazza che cresce lo fa anche velocemente Enrico, è un po' quest'anno il nome di riferimento del panorama italiano. Sta facendo vedere veramente ottime cose, Giada ha iniziato questa stagione veramente con il piede sull'acceleratore e ha dimostrato sia tecnicamente che fisicamente di avere un passo praticamente da atleta elite. Mitter Valner fa un'altra gara e da sola al comando può impostare il ritmo in salita, gestire in discesa quasi una gara allenamento per lei in vista della Coppa del Mondo. Hai detto bene tu, una gara così a una settimana dalla Coppa del Mondo in Brasile sicuramente le atlete hanno fatto i conti sulla condizione, anche cercando di rischiare il meno possibile e cercando una pulizia come si vede da queste immagini e come abbiamo detto in precedenza in maniera ottimale. A livello tecnico meglio un fondo così o meglio il fondo classico di Nals, ovvero la polvere? Beh è ovvio che la polvere sicuramente è meno insidiosa di questo terreno bagnato barra umido, soprattutto come abbiamo visto sulle radici nel sottobosco dove l'errore può arrivare dietro l'angolo. La gara Enrico a questo punto è per il secondo posto, troppo forte Mitter Valner, si giocano gli altri galini del podio, Eva Lechner già da specie e poi c'è la sorpresa di questa biker tedesca. Lì pronta per sferrare il colpo decisivo, Leonie D'Albermann. Forcing della Mona Mitter Valner, in queste immagini vediamo quanto è duro questo pezzo in cima alla salita dell'Usignolo, poi si gira a destra e si va giù in picchiata verso la Tonnara. Andiamo con le immagini dunque a cercare qualche particolare tecnico, anche da questi dettagli si vede come l'Austria vada in assoluta gestione, rischia ovviamente qualcosa di più già da specie, in ballo c'è il secondo posto, anche se poi ci si mette nel finale una serie di problemi tecnici, in realtà poi sono tutti legati alla catena che con questo fango diventa un po' ballerina, sale e scende dalla propria sede. Oggi i materiali sicuramente hanno giocato un ruolo molto importante dalla scelta delle gomme, anche appunto alla trasmissione, e veramente quando le condizioni sono veramente avverse i materiali contano tantissimo, anche proprio per dare poi un giudizio finale sul risultato. La grinta all'impegno, la fatica di Lechner che ci crede, che vuole onorare questa gara, vuole dare spettacolo per il pubblico di casa, che tante volte l'ha seguita NTV, l'ha vista sui circuiti di Coppa del Mondo, dei Mondiali e delle Olimpiadi, di vederla qui, vedere ancora questa ragazza, perché ha la sua età, continuare ad avere questa grinta, questa determinazione, questa voglia di faticare e di soffrire è un bel segnale per tutto il movimento. Sì, particolare, vediamo un atleta come Eva, veramente longeva, con una gran classe, basta ricordare il suo curriculum per far capire che spessore ha questo atleta, è una già da specie che ci sono almeno due generazioni di differenza. Un po' un passaggio di consegna potrebbe essere? Speriamo, sicuramente già da tutte le carte veramente per fare bene quest'anno e gli anni futuri, ma non è l'unica ragazza, tutto il movimento piano piano sta crescendo e sta cercando di portare all'Italia delle soddisfazioni. 1-2-3, Mitter Wallner, Dauberman e Deva Lechner. Questo il podio già da speciali, quarta appunto, prima la catena, ma va bene così ha detto. E ricordiamo una gran rimonta anche di Giorgia Marchette, perché i primi giri era molto indietro e piano piano, grande condizione per lei, ha saputo rimontare fino alla quinta posizione. Interviste a Mitter Wallner e Lechner. È bello, sono felice di gareggiare in Italia, di gareggiare Anales, spero di venirci anche l'anno prossimo. Sto bene, ho trovato una giusta condizione, adesso è tempo di pensare alla Coppa del Mondo. Eh sì, per me è una bella emozione essere sul podio qua a Anales, perché comunque la gara di casa e davanti al pubblico, ai amici e ai familiari, per quello è sempre una bella cosa e per quello sono molto contenta. Gara clou di giornata, elite e under 23, condizioni climatiche che peggiorano. Il sorriso di Alan Eterly, lui che sarà tra i big, quello che pagherà di più lo scotto di pioggia, freddo e un po' di vento. Appena, praticamente appena sono partiti poi la gara elite, open maschile, e ha iniziato veramente a piovere forte, 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 fino alla gara donne. Le gara donne oggi hanno corso, solo appunto considerando quello che è successo ieri a livello climatico, la gara migliore con un fondo il più possibile scorrevole, e invece i maschi hanno trovato poi delle condizioni veramente, veramente dure e avverse. Giro di lancio, ovviamente in fila indiana, grande velocità, non troppa selezione Enrico, anche se davanti lo vediamo, si piazza subito Alan Eterly e insieme a lui la bella conferma, più che sorpresa di giornata, lo vediamo in body di campione d'Italia, quello di Nadir Colledani. Nadir che ama queste condizioni, lui è atleta friulano, comunque esperienza anche nel cross, giusto ieri ci parlavo e mi diceva che lui queste condizioni le adora, poi sicuramente come abbiamo detto prima la scelta dei materiali quest'oggi ha avuto un ruolo molto importante, anche sui pneumatici, sulla dimensione e la scorrevolezza di quest'ultimo. Abbiamo visto in gara anche prototipi, quindi bene, importante e soprattutto interessante che le aziende utilizzino gli internazionali per testare pneumatici che poi ovviamente verranno utilizzati anche in Coppa del Mondo. Esatto, pneumatici, set in bici, trasmissioni, gruppi, catene, cambi, tutto questo sicuramente fa bene per evolvere i materiali, per testarli con gli atleti. Davanti in E2 abbiamo visto Simone Avondetto, gara intelligente, gara in recupero, invece in crisi sin dall'inizio, Gary Kershbauer. E' Gerard che è molto vicino come location a Nalles, quest'oggi ha fatto fatica, è un periodo un po' speriamo di preparazione per gli appuntamenti più importanti già da domenica prossima in Brasile. Aterlin a dettare le linee, poi con le dane che rifiata o perlomeno fa rifiatare Aterlin queste parti più scorrevoli e poi in terza posizione Gioele Bertolini da solo, grande gara dell'Azzurro. Bravissimo Gioele, anche lui si sta riprendendo magari da un'annata un po' così così e qui inizia veramente a piovere e vediamo che da adesso in avanti quasi succede un'altra gara perché pioggia con queste temperature, anche il freddo può giocare brutti scherzi. Aterlin appunto è il big che paga di più, lo vediamo, proprio da queste immagini la sofferenza molto più sereno in volto con le dane, Focus adesso che va a cercare Simone Avondetto lui è un altro mastino, un altro duro, un altro che quando ci sono queste condizioni si esalta addirittura in passato quando gareggiava nel Winter Triathlon, beh che ci fosse la neve o la pioggia, il freddo e il vento, temperature allucinanti, lui davvero continuava a gareggiare sempre nei calzoncini corti. Simone è un ragazzo molto giovane, anche lui Under 23, uno dei migliori Under 23 al mondo, ricordiamo che l'anno scorso per poco non riesce a vincere la classifica generale, Simone come anche Filippo Agostinacchio, come Vittone sono veramente dei giovani molto molto promettenti e speriamo che quest'anno in questa categoria riusciamo a toglierci delle bellissime soddisfazioni. Con le dane passa davanti e lui a cercare, a trovare, a dettare le linee ad Atherly, da queste immagini si evince la sua difficoltà, la sua sofferenza e inizia ad andare in crisi il campione sudafricano. Eccola qua, totalmente piantato. È un'immagine per far capire la crisi di Atherly e le condizioni che sono peggiorate di giro dopo giro, veramente un freddo incredibile e poi ovviamente sotto l'acqua questo viene più amplificato. E qui è il momento dell'esaltazione di Nadir Colledani, se ne va da solo il campione d'Italia 2021. Si diceva prima, Nadir anche ieri sera mi diceva che stava veramente bene, era molto contento della sua condizione, che cresceva di gara dopo gara e lo dimostra queste immagini, dove alcuni magari scendono a piedi, lui è riuscito quasi a fare tutto in bici. Ultimo giro, Atherly ancora lì secondo, ma durerà poco il suo secondo posto ed è, Enrico, la grande giornata dell'Italia degli azzurri, mai così bene analse in 21 edizioni. Eh sì, giornata veramente importante per i colori italiani, confermata anche da un punto di vista visivo con il tricolore di Nadir, che gara dopo gara speriamo trovi sempre condizioni migliori, è sull'ottima strada, l'ha dimostrato quest'oggi e speriamo che in campo internazionale e oltreoceano ci faccia vedere le grandi cose. Bocca chiusa per Giovele Bertolini a testimonianza di una ritrovata condizione psicofisica e queste invece sono le braccia al cielo da parte di Nadir Colledani, gli internazionali d'Italia Series di Nalles, sono suoi, quarta volta di un biker azzurro a Nalles. Nadir, gran gara, ottima condizione confermata, ottima condizione in crescita di Giovele Bertolini e di Simone Avondetta, una bella conferma. Le facce estremate al traguardo e anche sul podio, crisi ipoglicemica, per Nadir Colledani succede Enrico in condizioni così particolari di freddo e di pioggia. Anche perché comunque siamo arrivati da un periodo veramente caldo e anomalo, si può dire, e poi ci siamo trovati praticamente stamattina quasi con la neve appena sopra la testa. Tornando al discorso dei giovani, anche Filippo Fontana ha fatto veramente un'ottima gara e ricordiamo le sue caratteristiche del fango, sono per lui l'ideale. Le parole di Nadir Colledani Sì, oggi sono contento, ho avuto una bella prestazione, vincere un'HC, insomma, non l'avevo mai vinta, quindi sono contento e niente, adesso l'umore è bello alto, insomma, mi sento bene e ho gestito la corsa e sul finale sono riuscito a fare il mio ritmo. E niente, adesso ho una bella motivazione per la Coppa del Mondo e niente, testa bassa e menare, come sempre, e sono molto contento di aver vinto qui a Nalles. Sì, è un piacere per me essere qua, la condizione sapevo che era buona, è qualche gara che ho qualche sfortuna di troppo, però sono tranquillo, oggi è stato un buon risultato, la maglia di leader, diciamo che è un buon auspicio per le prossime gare e adesso andiamo in Brasile con il morale alto e vediamo di far una bella prova. Classifiche generali, donne con specie sempre più leader davanti a Giorgia Market ed Eva Lechner. al maschile Enrico Giovele Bertolini ha preso lui le comando con un solo punto su Filippo Fontana e poi il vincitore di questa tappa numero due, Nadir Colledani. La notte che ha successo con la miglia per la montagna, i guardi della fronte, a tutti i piedi, e poi la rinché, ben rientrati in studio abbiamo visto gli internazionali di Nalles di mountain bike e quindi ambiente protetto Simone Fraccaro tu hai dai anche una mano agli internazionali di mountain bike insomma sono dei circuiti protetti e soprattutto la settimana scorsa abbiamo sentito anche l'intervista di Enrico della Casa che è il presidente della UE che è il vicepresidente dell'USI e ci ha raccontato quanto sta crescendo il fuoristrada rispetto alla strada anzi stanno aumentando sempre di più gli eventi gli appuntamenti e tanti investono proprio sulla mountain bike tu ce lo puoi raccontare per primo se diciamo che dà un po più sicurezza da fare le corse fuoristrada c'è molta mountain bike adesso e anche le corse gravel stanno crescendo molto infatti stiamo organizzando insieme qualcosa che un semi gravel diciamo sulla mountain bike io non è che seguo personalmente tanto la mountain bike perché vengo esclusivamente dalla strada ho sempre fatto strada e pista pertanto ho chi in azienda cerca di valutare e vedere quali sono le strategie migliori per far conoscere il nostro prodotto e l'azienda in questo caso il responsabile marketing vedendo tutti i dati ha pensato che questa sia una gara interessante e che possa anche crescere ecco mario invece tu da scalatore vero ce lo ricordi a ce le ricordiamo le tue imprese avresti fatto anche mountain bike se ai tuoi anni ci fosse stata così come c'è adesso ai livelli che ci sono adesso per uno scalatore poi piccolo proprio diciamo che le opportunità potevano esserci però era talmente pieno il periodo della della strada con tutte le corse che avevamo qui in italia nazionali e importantissime perché se noi guardiamo siamo andati a valorizzare delle corse estere dove non ci sono nomi dai coppi bartali merce che avessero vinto basti pensare all'armstil go race che è nata noi abbiamo fatto morire dei calendari nostri che era veramente pregevoli insomma tu sei un uomo del sud sei nato in puglia quante corse c'erano un tempo al anche al sud il giro della calabria il giro della campagna era molto nazionale dicevo prima io correvo tantissimo in italia proprio per questo motivo qui proprio per questo qui gli sponsor erano interessati qui e nascevano tante corse ma proprio a livello professionistico interessando tutta la gente del territorio adesso invece con questo discorso che si è ampliato e vanno anche la federazione va a prendere soldini diciamo così dove li possono dare maggiormente e quindi fanno morire delle delle corse che avevano veramente un albo d'oro una delle corse che ti è rimasta di più nel cuore quale sta ma come corsa in se stessa corsa proprio l'appennino il giro dell'appennino perché l'ho inseguito per tanti anni l'ho inseguito per tanti anni era quel periodo che baronchelli sembrava imbattibile in quella corsa lì a un certo punto non la feci neanche andai in catalunia a correre in catalunia da arrabbiato in concomitanza e poi successivamente finalmente dopo tre secondi posti tre secondi tre terzi in due giorni due anni non ci sono andato sono riuscito a vincerla evidentemente gli altri la bocchetta ti ha aiutato e beh sì dovevi dovevi scremare lì e dovevi spingere veramente forte ai giovi che era proprio l'ultima e la bocchetta segnalare un passo per gli scalatori proprio ecco invece simone mi stavi raccontando che cosa vi siete inventati tu e mario beccia che dobbiamo chiamarvi glorie del ciclismo triveneto allora noi però con uno spirito giovane noi siamo un gruppo che penso abbia più di 50 anni quasi glorie del ciclismo triveneto 48 48 anni va bene e alla fine di un certo periodo mario mario beccia ha preso le situazioni le redini in mano di questo gruppo perché non è semplice anche organizzare un gruppo di ex corridori diciamo che l'abbiamo ritenuto il personaggio più opportuno per questo gruppo di anziani ciclisti ex ciclisti l'abbiamo portato avanti ma con il problema covi degli ultimi due anni non siamo riusciti a organizzare niente non avevamo soluzioni a questa epidemia a questa situazione non si potevano fare le riunioni nei ristoranti non si poteva allora mario gli avvenuto un'idea ha detto guarda se facciamo una pedalata come glorie del ciclismo rimaniamo in tema facciamo questa pedalata io il percorso ce l'ho bene in mente facciamo un percorso che non dia fastidio al traffico facciamo una cosa che sia una bella cosa però senza forzare più di tanto quel per la prima volta vediamo cosa succede anche io ho dato un'idea vedo cerchiamo di trovare qualche collega che venga a partecipare giusta e insieme abbiamo telefonato a francesco moser giuseppe saroni e vi siete riuniti e tutti hanno detto con voi veniamo in senz'altro e si presenteranno tutti quanti e sarà la prima edizione cercando di vedere bene se tutto funziona nel modo giusto e il prossimo anno faremo la cosa più in grande e faremo senz'altro venire anche corridori dal da oltre italia che potrebbe essere il no il development o qualcuno del genere bene hai parlato di anziani della bicicletta invece diamo ancora la linea alla regia diamo spazio a sezze asd sezze il pirata presentazione di squadre giovanili ovviamente spazio ai giovani ma anche gli anziani del pedale grazie a tutti La paura è la mia migliore amica. Ho scelto il downhill perché è pura adrenalina e velocità. Ma quando smetti di avere paura è lì che inizia il pericolo. La discesa non perdona. Quando cadi ti fai male. Due settimane dopo ho riaperto gli occhi ed ero in un mondo diverso. Ci ho messo un anno per tornare a respirare da solo. Poi ho iniziato a uscire. E finalmente ho rincominciato a sognare. Arrivai qua davanti ai blocchi, si spegne la luce e parti al chiodo. Ci sono storie che si possono riassumere in un nome. Ci sono nomi che possono raccontare molte storie. A Sezze, in provincia di Latina, se scrivi Il Pirata, si legge ciclismo. L'ASD Il Pirata nasce nel 2006 da un gruppo di amici appassionati delle due ruote che vedono nella bici un meraviglioso strumento di aggregazione. Ispirandosi alle gesta del Pirata Marco Pantani, l'associazione si è sempre più impegnata nel continuo sviluppo e miglioramento del settore ciclistico, fino ad arrivare al 2012, l'anno del grande salto. La SD Il Pirata decide infatti di mettere a frutto l'esperienza maturata negli anni precedenti per dare vita a un progetto legato ai più giovani. Un progetto inteso innanzitutto come formazione dei ragazzi che intendono avvicinarsi a questo sport, imparando a stare insieme e a gareggiare nel rispetto delle regole degli avversari. Elementi che contribuiranno alla crescita non solo sportiva di questi ragazzi. Nasce così il Pirata Evolution e iniziano a iscriversi i primi bambini delle categorie giovanissimi esordienti allievi e con loro iniziano ad arrivare le prime vittorie. In qualità di presidente onorario, il team viene affiancato da un nome di valore come quello del campione italiano Filippo Simeoni che partecipa nell'organizzazione e nella realizzazione di iniziative sul territorio. Col passare degli anni, i piratini si mettono sempre più in evidenza fino a ricevere un riconoscimento da Tonina e Paolo Pantani, genitori del campione Marco, gemellandosi ufficialmente col team Pantani Corse. In dieci anni di attività giovanile, la società tesserà 641 ragazzi ottenendo 463 vittorie, tra cui la Coppa di Sera nel 2019, il campionato italiano allievi e la Coppa Dino Diddi nel 2021. Nella categoria giovanissimi, la società si mette in evidenza conquistando il titolo regionale per quattro anni consecutivi. Nel 2014, il Pirata viene premiato come miglior società italiana per risultati ottenuti nella categoria esordienti di primo anno. Il campionato regionale del 2016 si rivela un autentico trionfo con la conquista di campione regionale del Lazio in tutte le categorie coperte dalla società. Risultati importanti, ma che vengono sempre dopo, la grande voglia di stare insieme e di divertirsi in sella alla bici. Il 2017 è un altro anno fondamentale per la società che decide di dar vita alla categoria Juniores, riuscendo a essere subito competitivi a livello internazionale e a piazzare atleti nella nazionale italiana. Risultati oltre ogni aspettativa, con alcuni ragazzi che, partiti da questa società, sono riusciti a fare il grande salto nel professionismo. Un'esperienza preziosa per tutto lo staff del Pirata che ha permesso di riversare nelle categorie giovanili un enorme bagaglio di conoscenze maturate nelle competizioni di alto livello. Il 2021 è l'anno della consacrazione. Una gavetta lunga, fatta di interminabili trasferte, mani sporche di grasso e sacrifici, un viaggio alla scoperta dell'Italia, dei sorrisi e dell'entusiasmo di bambini che a malapena riescono a stare in sella senza rotelle. Una passione straordinaria che viene premiata con la nascita del Marco Pantani Official Team, il primo team ufficiale dedicato a Marco Pantani. Un grande onore, concesso dalla famiglia Pantani, ma anche una grande responsabilità che ha portato a un anno di attività intenso, carico di aspettative ed emozioni e che è stato coronato dalla vittoria di Ivan Toselli al campionato italiano allievi e dal trionfo di Jacopo Ficaccio nella classica Dino Diddi. Un anno pieno di onore e rispetto per il campione Marco Pantani. È il culmine di un lungo cammino, ma è anche l'inizio di una nuova avventura. Grazie famiglia Pantani. Grazie Marco. Rientriamo in studio e continuiamo con Simone Fraccaro e con Mario Beccia a parlare del vostro appuntamento. 24 aprile, pedalata ecologica, ma già andare in bicicletta su due ruote si fa ecologia, 50 chilometri. Sì, giusto. Voi li leggete 50 chilometri ancora? Forse. Forse. Leggiamo intanto. Stefano all'occhio, siete andati rigorosamente in ordine alfabetico. Per andare spazio. Sarà libero col Giro d'Italia o no? No, mi ha permesso che viene. Anzi, ci ho parlato proprio l'altro giorno per sapere, perché loro venendo da distante dobbiamo ospitarli alla sera prima, non possono partire per poi alle 9 e mezza partire con la pedalata ecologica. E quindi ci arrivano la sera prima. Per le camere, adesso che si muove un po' tutto, e speriamo riprenda tutto quanto. C'è più possibilità, più spazio. Sì, appunto, ci siamo ripresi fra me e Simone per essere sicuri di avere le loro camere qui vicine, disponibili, insomma. Anche perché poi Stefano all'occhio parte con il Giro d'Italia. Si parte dall'Ungheria in un paese vicino all'Ucraina in un momento un po' particolare. Per cui insomma... Ma ci teneva a venire. Ci teneva a venire. Sì, sì, me l'ha detto proprio... L'avete cresciuto. Se la fate, è sicuro... Beh, è stato in camera con me quando è passato la Malvor Bottecchia. Già, è vero. Quindi è stato... Malvor Bottecchia. Quindi ti sei cresciuto Stefano all'occhio. Era il velocista della squadra. Con il grande Mario Calle. No, sì, sì. Un anno insieme, in camera, assieme, insomma. Quindi insomma, l'hai cresciuto bene visto che è arrivato a dirigere il Giro d'Italia. Non aspetta a me dirlo. Poi insomma, Moreno Argentini, immancabile, Mario Beccia, Aldo Beraldo, ricordiamolo, che con la Zalf, direttore sportivo come Zalf, ha vinto il Mondiale con Mirko Gualdi a Ustronomia, ricordiamolo, 1990. Tullio Bertacco, Claudio Bortolotto, Gianni Bugno, ormai una presenza fissa qua nel Trevigiano, l'Alessandra Cappellotto, Alcide Cerato. Alcide, mi ha promesso anche lui che viene, perché lui è di Padova. Poi si è trasferito a Milano dopo aver fatto il ciclista anche lui e ha cominciato quell'attività che sappiamo, che porta grande fortuna, che non smette mai di lavorare. No, infatti, esatto, è un grande lavoro. Trova sempre lavoro e spazi e quindi mi ha detto che lui vuole esserci perché ricorda questi nomi e vuole salutarci, ecco, per questo aspetto. Lui è stato un po' qualche anno prima di noi, però ci tiene ad essere lì anche perché lui è uno di quelli che insieme a Pinarello a Germenato Giusti, a Cestari, hanno creato proprio le glorie del ciclismo triveneto. Beh, ricordiamo Cesare Pinarello, però. Cesare Pinarello e Giovanni. E hanno creato questo gruppo chiamandolo proprio Gloria del ciclismo triveneto. Una cosa che ci tengo a dire è che quando siamo entrati fra me, Simone e altri più giovani la chiamavano le vecchie glorie del ciclismo. Io l'ho voluto tagliare, l'ho voluto e che forse proprio staccato perché se sono glorie sono e rimangono in questo aspetto che poi si va davanti per l'età, questo è per tutti. Basta, chiuso. Poi c'è Aurelio Cestari che è stato l'ultimo gregario di Coppi se non sbaglio o comunque insomma uno degli ultimi ad aver corso ancora con Coppi vivo. insomma poi Silvano Contini Luciano Dallabona Simone Fraccaro appunto Gianni Fregonese che ha corso con te in Malvor Bottecchia Silvano Lorenzon lo stesso Luciano Loro ha corso anche lui con la Malvor Bottecchia è stata in Malvor Giuseppe Saronni arriva davvero? Certo Sicuro, sicuro anzi mi ha telefonato e mi ha detto preparati bene perché se c'è uno strappo ti stacco io mi alleno solo per staccarti mi ha detto ma mettete anche un GPM in questo percorso vedremo insomma dai ci va Romano Tumellero a Flavio Vanzella ovviamente ricordiamolo maglia gialla al Tour de France e Diana a Ziliute insomma un parterre de rois ma cancora Claudio Corti Claudio Corti è Ballant perché non si sapeva se aveva dei contratti ancora con Rai se doveva andare via che adesso invece sa di essere libero e mi ha detto che viene sicuramente a partecipare e i Rai ogni tanto fanno un po' di pulizia abbiamo lì sei campioni del mondo proprio di quelli di tutto punto però il tutto nasce Mario Beccia da Crocetta del Montello sì perché? allora parlando con Simone di questa cosa perché a novembre non si sa mai se dovesse tornare ancora la pandemia avevo cominciato a sentire queste voci ma si è dissolta ha preso in mano Beccia Fra Caro le glorie non si sentono più ed è nato questo pensiero è nato lì a Crocetta perché Crocetta è fra le sponde del Piave e del Montello e io ci tengo a far conoscere questo territorio perché è bellissimo per le strade che dà e perché ricorda gli Arditi quindi nome più bello non si poteva dare a una corsa di questo aspetto perché gli Arditi combatterono la prima guerra mondiale sul Piave e erano famosi per avere il pugnale tra i denti e nuotare nel Piave all'arma bianca e fare gli assalti contro gli altri quindi per questo l'abbiamo voluta chiamare così e per far vedere con questo percorso delle strade inedite dove proprio gli Arditi sono passati e potremo passare potremo passare proprio con la bicicletta perché sono strade ben battute sono state preparate benissimo che si possono fare con la bicicletta con la grave daremo modo proprio di conoscere queste strade qui che sono bellissime proprio di questa zona allora parlando di strade ci sono e tra un po' diamo la linea appunto alla regia ci sono tantissime strade sterrate parchi naturali incredibili l'Italia ne è piena l'Italia è il paese dell'arte dei paesaggi il paese della storia e proprio c'è questa prima tappa del trofeo parchi nazionali parchi regionali del Pollino trofeo di mountain bike trofeo nato circa 20 anni fa da un'idea di unire di unire una serie di iniziative ovviamente in bicicletta fuori strada in alcune zone di riserva di tutela nata da un'idea della Basilicata dell'Umbria del Lazio e insomma di creare una sorta di giro a tappe di mountain bike nei parchi più belli in Italia nel centro sud si passa per fondi Martina Franca Ugento Letoiani Letna Laspromonte il Pollino dal versante calabrese al versante lucano il Sele la piana del Sele dove ricordiamo c'è anche il grande sito archeologico di Pestum e poi sulla Sila insomma un grandissimo appuntamento tanti atleti linea alla regia Sarebbe più facile per te se io non fossi così veloce Sarebbe più semplice se smettessi di vincere Saresti più a tuo agio se fossi meno orgoglioso Preferiresti che non avessi lavorato così duramente Ho semplicemente partecipato alla gara Ho scelto uno sport diverso Ho fermato ai miei primi passi Peccato per te perché io sono nato per fare questo Mi è stato detto di rimanere con i piedi per terra ma io ho deciso di volare su quei pedali I single track si insinuano tra due file strettissime di corbezzolo e bianco spino Gli occhi dei bikers sono più concentrati che mai Lo spettacolo della riserva naturale del Bosco delle Penelle solletica la mente dei bikers ma alla prima distrazione sa anche graffiare e lasciare i segni Quella che vedete è la spettacolare location che ha ospitato la seconda stagionale del trofeo Parchi Naturali Parliamo del Parco delle Querce 60 chilometri di pura emozione e adrenalina disegnati e diretti alla perfezione dalla SD Team Bike Martina Franca Dalla meravigliosa location un lungo serpentone di 700 atleti inizia la sua entusiasmante scorribanda in questo piccolo angolo di paradiso nel cuore della Puglia gruppo della Puglia Nei primi 8 chilometri in leggera salita i bikers di testa tirano subito il collo al gruppo che pian piano si allunga e continua ad andare avanti nella sua naturale selezione. Al primo single track in discesa quello della lavatrice come ribattezzato dai bikers locali la strada si stringe e i più forti si fanno trovare nelle primissime posizioni di testa per evitare l'inevitabile imbottigliamento che oltre a far perdere secondi importanti può far scappare via le ruote giuste. Nel percorso point to point del Bosco delle Penelle a dettare il passo è Daniele Monaco della 3 Cycling seguito a ruota da Andrea Sicuro. Viaggeranno insieme per quasi tutto il tempo restante della gara. Al termine della prima discesa e torniamo sul marathon Colonna già vincitore della scorsa edizione prende le redini della gara assieme a Pugliese. Il percorso è insidioso basta una distrazione per finire con le ruote sulle rocce più appuntite. Il primo a farne le spese è il bravissimo Roberto Semeraro che al dodicesimo chilometro taglia il copertone e perde quei 7-8 minuti che lo costringono ad abbandonare ogni ambizione di vittoria. Al termine del primo scollinamento il calabrese D'Amico è bravo a riportarsi sul duo di testa. Dopo un po' anche vigoroso riesce a rientrare nel gruppo formando un gruppetto di 4 bikers al comando. Il tracciato del Bosco delle Pianelle piace e diverte alternando senza soluzione di continuità single track, vialoni da spingere a tutta, discese che richiedono il pelo sullo stomaco, si è affrontata a tutta velocità e salite brevi ma mai ripide. Andrea Sicuro e Daniele Monaco se la giocano, si giocano la vittoria di questo point to point, fate sentire gli applausi perché festeggiamo la vittoria di Andrea Sicuro! Torniamo alla testa della corsa, rimangono i due atleti del team Rolling Bike di Reggio Calabria, Colonna e Vigoroso. I due ormai imprendibili fanno gioco di squadra fin sulla linea del traguardo dove Colonna festeggia con una vittoria il suo trentacinquesimo compleanno. Sono due atleti tra i migliori del team Rolling Bike da Reggio Calabria, festeggia anche oggi, anche quest'anno, arrivano con un abbraccio, chi vincerà? Vediamo, 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 arrivano insieme. Paolo Colonna, applauso a Paolo Colonna e a Tony Vigoroso, tutti quanti a festeggiare il traguardo di Paolo, ma un applauso che vogliamo condividere anche con Tony Vigoroso, cioè ve la siete proprio, diciamo, godute insieme questa gara. Guarda, oggi nessuno ci crede, non ho fatto la gara col 36-11, tutta gara, e sono arrivato qua con Tony, ho fatto una fatica bestia, in salita correvo a piedi, nei single pack gli rientravo, e Tony mi ha dato una grossa mano, davvero forte. Io ci tenevo a vincerla e gli ho chiesto se me la faceva vincere, non per altro, ma per dedicarmela al mio compleanno ai 35 anni. Tra le donne, anche nella seconda tappa, è l'atleta del Rio Nero Il Velocifero, Mara Parisi, a mettere le sue ruote davanti a tutti. Mara, dobbiamo dirlo, tu ci stai prendendo gusto, questa è la seconda vittoria all'interno del Trofeo Parchi Naturali, lo hai fatto affonditi, sei ripetuta appunto al Bosco delle Pianelle, com'è andata? Bene, spartenza congelata, sono stata deconcentrata per i primi 30 km, poi ho iniziato a prendere il ritmo dopo, sofferta con i crampi, ho iniziato a soffrire al 45esimo i crampi, ne ho tenuti fino adesso, sofferente oggi. Questo in sintesi il racconto di una bellissima domenica ciclistica al Bosco delle Pianelle per la seconda tappa del Trofeo dei Parchi Naturali, partito da Fondi, seconda tappa quindi con la 14esima edizione della Marathon Bosco delle Pianelle, è già pronto per trasferirsi a Torre San Giovanni, Ugento con MTB Casarano e Terra Russa per la oramai famosissima Marathon del Salento. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Rientriamo in studio per l'ultima parte della trasmissione, ricordiamo 24 aprile pedalata ecologica, diamo un po' degli appuntamenti, ovviamente il segretario, il presidente, tutto a fare è Mario Beccia, abbiamo capito perché gli hai lasciato tutte queste incombenze, diamo appunto i dettagli di questo evento. Sì, è un percorso come dicevi che va sull'arco dei 50, deve stare nei 50 chilometri, per esattezza sono 48 chilometri. Ma sono ammesse anche le bici elettriche? Sì, questa è una pedalata ecologica. E quindi Saroni ti potrebbe battere con la bici elettrica? Non vorrei che ci fosse il trucco, devo stare attento. Facciamo venire qualche commissario dell'Usei con lo scanner per controllare i motori. Diciamo che appunto la cosa è nata perché vogliamo far conoscere il nostro territorio, prevalenza superiore su tutto quello che ci può essere e quindi far vedere quanto sia bella la sponda del Montello che va ad essere bagnata dal Piave. Questo è quello che ci tenevo a dire prima di tutto, proprio per valorizzare Treviso, che è la provincia. E facciamo questa pedalata ricordando la storia che ha avuto con gli arditi, quindi la corsa si viene chiamata proprio Gran Premio, GSEG, Gli arditi. Ma anche perché voi eravate degli arditi proprio quando correvate, col coltello tra i denti o sotto la sella? Ma anche il 24 saremo col coltello tra i denti. Qualcuno me l'ha promesso, non so perché, però ci viene proprio per questo. E comunque sarà una passeggiata che nell'intento, questo giro, nell'intento ottiene un momento di sosta perché viene offerto dall'area 151 un'area nuova di vendite promozionali, cose così, e quindi ci offrono il caffè, staremo insieme, è un giorno da stare, vivere insieme e nel finale chi vuole pedala in soltezza con questo percorso proprio sugli arditi, che non è su una strada dove ci saranno macchine o cose, è proprio strada bianca, tranquilla, ben messa, che ognuno potrà andare come gli pare e ci sarà un vincitore per forza maggiore perché alla fine qualcuno dovrà arrivare per primo. Non so se Giuseppe ha l'idea di questa cosa. Ma Simone hai fatto anche le maglie? Certamente. Per l'evento? Certo. Molto una grafica ecologica sul verde naturalmente. Così chi arriva ultimo si può confondere? Si può confondere tra le piante, tra le piante si confonde e vedremo chi sarà il vincitore. Io ho l'obbligo di tirare la volata a Giuseppe Saroni, vediamo cosa succede. A Giuseppe Saroni sarà da vedere. Quello che c'è da dire è che in Crocetta del Montello in quella settimana, perché ci sarà un arco di settimana proprio riguardante il ciclismo, la apriamo noi con questa corsa. E poi fate anche una mostra nel museo. Ci sarà una mostra che riguarda il ciclismo professionista, professionistico in Crocetta del Montello, perché non sono venuto fuori solo io, c'era Gianfranco Bianchini che era forse anche più forte, non ha potuto dar da vedere quello che realmente era, perché in due anni poi è successo quello che è successo. E poi le aziende che hanno lavorato nel ciclismo, come attualmente la storia, che sappiamo che è promozionale. Poi ricordiamo anche l'H2O, Maurizio Fabretto. L'H2O, Fabretto con la squadra femminile a livello mondiale, che ha vinto mondiali. È stata la prima squadra femminile di un certo livello. È stata proprio l'inizio di tutto quello spingere. Diana Ziliute proprio vinse il mondiale, tesserata con Maurizio Fabretto. E poi successivamente andiamo a chiudere proprio questa settimana con un'altra competizione che Bike Team, la squadra ciclistica di Crocetta del Montello, andrà a fare proprio su quelle che sono le grave del Piave. Montello, una piccola parte, e strade del Piave che ancora vengono seguite con le mountain bike, perché è bellissimo. Insomma, poi parliamo di gravel, sulle grave. Grave, grave. Ci saranno anche dei partecipanti con la gravel, vediamo. Quanto attira il mondo della gravel e quanto, ad esempio, nell'abbigliamento dovete cambiare il concetto di abbigliamento? Beh, cambia un po', non tanto. Poi ci sono quelli che preferiscono stare con l'abbigliamento tecnico da ciclista per avere la possibilità di fare sia l'uno che l'altro, altri che preferiscono avere specifico gravel. cambia non molto, perché le biciclette hanno sempre due ruote e si pedala seguiti insieme. Non è come la BMX che c'è, un abbigliamento un po' quasi da motocross. È molto simile alla strada, ha le gomme un po' più, diciamo, un po' più spesse che evitano le forature e il manubrio, diciamo, in una posizione meno tecnica, meno tirata, meno aerodinamica. Comunque ce ne sono tantissimi che stanno andando verso la gravel, per la sicurezza, per non avere questi problemi con le strade. Qua in Italia comincia a diventare un grosso problema, anche perché non c'è una cultura, io dico, non c'è la cultura né negli automobilisti e neanche nei ciclisti. C'è una guerra fratricida, che poi magari sono sempre gli stessi, che vanno in bicicletta, che vanno in macchina, diventano cattivi quando sono in macchina e diventano cattivi. Perciò qua in Italia ti pelano in poche parole, mentre invece all'estero, paesi come la Spagna o altri paesi, c'è molto rispetto per i ciclisti. Anche perché la bicicletta porta cultura, porta movimento di soldi, diciamolo, porta business, insomma, è tutto un indotto in crescita, un giro di lavoro importante. Simone, poi hai fatto anche la maglia per Anna May, per ricordare i suoi record, questa donna incredibile che noi salutiamo, che si dedica veramente tanto con la sua fatica in prima persona per cercare di aiutare le persone più in difficoltà. Quindi insomma, una maglia splendida, che poi Nicola Argesi avrà modo di farci vedere. Diciamo che è una gran coraggiosa, perché fare i record che sta facendo, io che sono stato ciclista per anni di battaglie dure e ne ho sopportate, sono sicuro che non sopporterei la battaglia che fa lei. E il motivo per cui lo fa è molto importante, credo sia questo che la porta a farlo. Assolutamente, perché non ha bisogno certamente di altro se non di donare il grande cuore che ha veramente. Parlavamo degli arditi e invece domenica c'è stato a Modena, c'è stato il Gran Premio Città di Modena, organizzato addirittura dall'Accademia Militare di Modena. Sappiamo che all'Accademia Militare escono importanti personalità del mondo militare. Questa è la guerra che ci piace, non ci piacciono altre guerre e lo sport deve portare sempre amicizia, fratellanza e solidarietà. Lanciamo il servizio. Grazie a tutti. Il ciclismo è ritornato all'autodromo di Modena come negli anni 50, quando nell'attuale sede del Parco Ferrari si disputò una cronometro a squadre con la Bianchi del campionissimo Fausto Coppi. Ritorna il Gran Premio Città di Modena Primavera Ciclistica 2022 che si è svolta domenica scorsa a Marzaglia grazie al patrocinio del Comune di Modena, della cooperativa Alleanza 3.0 e la disponibilità della direzione dell'impianto modenese. A guidare l'organizzazione della manifestazione è stata la nuova ASD Esercito Accademia Militare affiancata dal Comitato Provinciale Modenese presieduto da Enzo Varini. Per questo evento, riservato alla categoria esordienti ed allievi, sono impegnate tutte le società ciclistiche modenesi. Il programma si è aperto alle ore 13 con la presentazione dei team e dei 300 iscritti, mentre la prima gara è scattata alle 13.30 con gli esordienti del primo anno che si sono veramente dati una grande battaglia e quindi tanti anche qua gli iscritti e soprattutto le società, dalla Ford Livese alla ciclistica Maranello, ma non soltanto, Velo Club Racing Assisi, poi abbiamo la Beltrami, la Calderara, la Cotiglionese, ancora il San Marinese, Fausto Coppi, insomma tutte le squadre più importanti nella presentazione appena vista, avete visto che si sono presentati in questo splendido autodromo. Ricordiamo che oggi viene utilizzato per diversi tipi di eventi, dai test delle case automobilistiche e anche motociclistiche, ai raduni storici, corsi di guida sicura, quindi un impianto veramente polifunzionale. Prima gara esordienti, una gara veramente all'ultimo sangue, senza veramente esclusione di colpi, se la giudica Tommaso Cingolani del team Cingolani, Marcello Pelloni della ciclistica Maranello al secondo posto, Filippo Cingolani sempre al terzo, poi seguono Bersani, Vanuzzo, Orsi, Iacobellis, Berardi, Sambi e Angeli. E quindi bellissima gara esordienti, al primo anno sono stati 95, mentre 86 sono gli esordienti al secondo anno. Anche qui copia e incolla, veramente tante tante battaglie su questo tracciato che è lungo 2068 metri, quindi con rettiline, qualche curva, anzi 5 curve piuttosto tecniche, dove anche nella categoria esordiente al secondo anno si sono dati battaglia. Ma la battaglia la vince Matteo Ghirelli della Forlivese, Tassi Edoardo della ciclistica Maranello al secondo posto e Battistelli Pietro, Velo Club Racing Assisi al terzo, seguono Cattini, Sisti, Borghi, Bancalana, Pospisciel, poi Fabri e Vittori. Buongiorno, grazie per la società Pietro Battistella, grazie. Il gran finale vedono impegnati gli allievi su questo splendido tracciato, un tracciato totalmente in sicurezza. Forse dobbiamo dimenticarci le belle avventure, quando si diceva qualche anno fa, quando le strade la facevano un po' da padrone e i ciclisti raccontavano anche le bellezze già da queste categorie. Oggi pare che il mondo sia cambiato, non si va più d'accordo. Gli automobilisti non sopportano veramente più i ciclisti e soprattutto la burocrazia è diventata veramente qualcosa di tragico perché mette veramente a dura prova tutti gli organizzatori, agli organizzatori con i quali io veramente sono sempre in debito perché è in debito la società civile, queste sono risposte democratiche, grazie, grazie, grazie. Il ringraziamento va anche ai 107 atleti che si stanno dando battaglia per quanto riguarda la gara dedicata agli allievi che va a chiudere questa bellissima giornata di sport, ma se la giudica Cristian Fantini del Cavriago, su Nicola Battaglia, Borgo Molino Rinascita Ormelle, Stella Davide, Gottardo Giochi, quindi seguono Fabbro, Totolo, Vettoretto, Costa, Chiodarelli, Rosato e Sari Sebastiano. Questo è il componimento della Top Ten, che dire di altro, la rivederci sicuramente per il prossimo anno, per questi 2068 metri che ci hanno fatto brillare gli occhi e sicuramente un ringraziamento alla SD Esercito Accademia Militare che questa è la risposta alle guerre, qua i soldati sono dei ciclisti appassionati, i loro carri armati sono stati delle biciclette e quindi questo è il nostro modo di voler bene alla democrazia e soprattutto, senza retorica, veramente, sono momenti di resistenza, resistere vuol dire continuare a fare le cose che ci rendono migliori. Grazie assolutamente a questa organizzazione. Rientriamo in studio per l'ultimo breve saluto con Simone Fraccaro e Mario Beccia. Una cosa velocissima, qual è stato il tuo campione del cuore, anche fra quelli con i quali hai corso? Se devo dire fra tanti, secondo me il migliore è Franco Bitossi. Franco Bitossi. Avrei detto Roger De Vlemic, tu me l'hai fatto conoscere. Parlando degli italiani, se parliamo di qualcuno all'estero, anche perché ho una certa amicizia, infatti domenica prossima è qui con noi, ci troviamo a Panagliano. Mister Roubaix è tanta roba. È un grande personaggio, sia sportivamente è stato un grande ciclista, ma anche umanamente è una persona molto semplice. A me piace chi è molto semplice, anche se ha vinto tanto. Invece Mario? Per me è... Oltre a Mario Beccia? No, 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 ma... Il corridore che ti ha emozionato di più. Il corridore così che ho visto, che poteva essere quello che mi aveva spinto anche proprio per avvicinarmi alla bicicletta, è stato proprio Gianfranco Bianchin che in paese era nominatissimo. E quindi i miei fratelli erano più sulla sua età, erano amici, perché qualche volta è passato anche per casa, lavorava proprio dove lavoravano i miei, e quindi quello era stato un po'... non capivo ancora niente di ciclismo, non ne sapevo proprio niente, non proprio... Però forse guardavo a lui come un extraterrestre, ecco, diciamo, da ragazzino che ero. Invece, chiudendo, vi stupirò, io avevo la passione per Gert, Jan, Theonis. Theonis. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com www.epocaspa.com